eccoci qua in cima alla pianta mamma mia questa è la vetta angelica e manca solo un pezzetto legati siamo legati però un sbagliattico è un po' giù 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 rimane un po' le mani o qu'iloglio tu voglio ehi tu voglio va se la mia adria fa fiume la mia tu voglio se c'è ultimo pe vediamo l'ultimo vediamo fiume fiume eccolo qua fiume dai che ho finito tentoc per anche sal però italia 1 l'arma invincibile mi trema la mano se le fa grande marocco ciao ciao ragazzi si se vende domanda qui 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 qui